ciao mitici video di recensione di questo porta telefono completamente in metallo della marca che andremo a inquadrare si chiama arnard coq veramente di qualità e con delle caratteristiche che lo rendono unico molto molto interessante lo andiamo a scoprire insieme allora innanzitutto vediamo che nella parte alta noi abbiamo un attacco per poter mettere microfono luce o d'altro che va con una slitta flash che ha una sua frizione quindi noi possiamo ruotarlo nella direzione che vogliamo la frizione si può stringere allentare nella confezione c'era anche una chiavetta ma diciamo che così com'è va già bene altra cosa che lo rende diverso dagli altri è il fatto di poter ruotare quindi noi una volta messo questo sul nostro cavalletto facciamo finta che questo è il nostro supporto cavalletto ma potrebbe essere benissimo un gorilla o altro una volta che noi l'abbiamo fissato possiamo passare da inquadratura orizzontale a inquadratura verticale molto molto facilmente quindi ruotando in questo modo può passare da un inquadratura all'altra in verticale diciamo per instagram e per youtube noi andremo a utilizzare il telefono in orizzontale questo diciamo in linea generale poi vediamo che il nostro telefono il nostro porta telefono si allunga in verticale fino a tenere un piccolo tablet andiamo ad allentare ok sotto non si allunga sotto è fissato che si allunga solamente in sopra comunque per i telefoni va bene già così allora se noi andiamo a stringere questa rotellina ok se noi abbiamo questa rotellina qua vedete che c'è scritto sblocca e blocca noi andiamo a sbloccare questo qua così così si alza se invece noi la giriamo tutta dall'altra parte questo qui non si alzerà più quindi possiamo una volta messo il telefono così lo mettiamo messo dentro stringiamo e lo andiamo a tenere bloccato qua dentro abbiamo un'altra leva che blocco meno che è questa che così blocca la rotazione tirata indietro con una certa forza non ruoterà più non ruota più invece tirati in avanti questo ruoterà quindi noi possiamo quindi bloccare sbloccare questi due diversi movimenti andiamo a rivedere il telefono ha una sua base così che si muove che cosa succede con la base così che si mettiamo di aver messo sul cavalletto o su un treppiedi messo questo mini treppiedi giusto per ok giusto per dare un'idea quindi potremmo avere un impugnatura così noi ci andiamo a tenere fermo potremmo inquadrare un soggetto così ma anche inquadrare un po verso l'alto o inquadrare un po verso il basso quindi semplicemente poggiandosi con un piccolo oggetto come questo sul tavolino mettiamo che io devo riprendermi perché voglio fare un blog seduto al tavolo mentre mangio posso decidere di alzare l'inquadratura nel caso sto facendo inquadratura selfie o di abbassare l'inquadratura quindi un portatelefono che ci dà questa possibilità di movimento inclusa già in un treppiede anche un treppiede semplice che non ha che non ha ulteriori movimenti facciamo l'esempio ecco durante treppiedi come questo vedete la testa non si muove in nessun modo eppure eppure tutto il movimento che che mi serve lo vado a gestire direttamente con il portatelefono posso abbassarmi anche fino a riprendere anche fino a riprendere un oggetto a terra quindi già con una cosa del genere potrei fare un video tutorial quindi è più o meno l'inquadratura che sto facendo adesso ma che potrei ottenerla con un semplice cavalletto come questo qui ti ripeto un banalissimo cavalletto della gorilla mi permetterebbe di fare un tutorial in cui ho messo un oggetto così chiaro magari in questo caso è un po' troppo vicino sarebbe più adatto magari per fare una cosa del genere un cavalletto tipo un pochettino più alto tipo questo qua però comunque questo movimento lo fa poi andiamo a vedere abbiamo qui sopra che è bloccata abbiamo detto che bisogna girare la rotellina per sbloccarlo e poi la rotazione è sbloccata vogliamo bloccarla tiriamo avanti questo e noi abbiamo la rotazione bloccata le attacchi a vite sono in sotto da entrambi ci stanno sia quella da tre ottavi che quella da un quarto di pollice interessante dietro che ci siano ulteriori tre tre attacchi che ci potrebbero servire per attaccare un magicarme dietro o qualche altra cosa dietro un piccolo un piccolo magicarme per tenere un un microfono una possibilità del microfono e anche quella di essere messa sopra e infine guardiamo la gomma la gomma anche questa qui la notata attaccata veramente molto bene non dà l'idea di poter cedere anche se questo è nuovo non l'ho ancora utilizzato mi sembra veramente un prodotto premium non è assolutamente un prodotto economico ci dà direttamente le dimensioni da due quattro a tre sette pollici che visto con il centimetro andiamo a vedere andiamo a vedere se questo è zero ok mi dice fino a nove centimetri più ce n'è uno quindi più o meno più o meno aperto così riusciremo a mettere dentro oggetti da dieci centimetri oggetti da dieci centimetri riusciremo a metterli all'interno completamente in metallo presso su amazon c'è un ulteriore attacco qua sotto da un quarto di pollice che oggettivamente non saprei come possa essere utilizzata una cosa del genere magari magari qui dentro entra una cosa non lo so però l'hanno fatto c'è uno spazio dice perché non farlo ci hanno messo qua un attacco da un quarto di pollice anche sotto e mi sembra davvero molto ben fatto e lo utilizzerò volentieri questa basetta qua se qualcuno mi fosse venuto il dubbio non 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 riesce ad entrare nelle slitte questa basetta qua è solo per ammetterla con delle vidi su qualche supporto non è della dimensione che può entrare in una slitta vedete che c'ha delle frizioni che sono già stabili già da calibrate la chiavetta che viene fornita serve eventualmente per farle diventare più dure o meno dure a secondo la vostra preferenza o magari anche a secondo di quello che ci andrete a montare sopra comunque a me sembrava già che andava molto bene più che altro se con il tempo che si dovesse allentare allora uno potrebbe potrebbe stringere un po di più ma io vedo che va abbastanza bene già così com'è va bene link amazon nella descrizione di questo porta telefono molto molto soddisfatto sì davvero non il solito porta telefono diciamo di plastica ma è fatto un prodotto fatto per per durare fatto molto bene ciao ciao